Entro un paio di mesi ci sarà il bando per la vendita dell'albergo Cervandone all'Alpe Devero, l'ente di gestione delle aree protette dell'Ossola e comune di Baceno. Proprietari ciascuno per il 50% della struttura avevano dato tempo sino all'11 aprile ai soggetti interessati di manifestarsi. Hanno risposto tre società sulle quali è riservo assoluto. Adesso occorrerà formalizzare il bando per un prezzo base di 830.000 euro. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.